ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mini microscopio video oggi vi faccio vedere il mio aereo ma rinoceronte questo è un pochino rotto e vabbè che vuoi che sia è soltanto un aereo anche si è un po' rotto guardate vabbè vedete è un po' rotto ma vabbè però voglio farvi vedere una cosa cioè io voglio farvi cioè come che si può dire ecco io voglio farvi vedere una cosa guardate io voglio volare ma tu lo sai che i rinoceronti non sanno volare io sì io posso volare perché io sono un pelicano e io sono un uccello guarda e tu non ci tu non creda che tu potrei riuscirci rinoceronte spiacente ma non dire sciocchezze io posso volare lo stesso adesso accendi il motore parto 3 2 1 aia la mia ala è meglio che mi allontano va bene ok 3 2 1 accenditi accenditi non funziona niente te l'ha detto è rotto oh hai ragione cioè hai ragione adesso ora scendo oh che cosa sta succedendo non ho di questo per volare a io e l'inoceronte stai bene sì aia mi sono appena rotto la g cioè visto mi sono appena rotto la zampa aia ti devo portarti da cioè io ti devo portarti dal dottore sì appunto aia vieni qua per favore fa malissimo adesso arrivo va bene ragazzi ciao vado aiutare il rinoceronte aah Grazie.